buongiorno mister buongiorno buongiorno a tutti allora si torna in casa dopo la sconfitta di lucca l'unica volta che si era perso quest'anno con cesena dopo c'è stata la grande reazione a chiavari e domani si aspetta ancora la squadra sarà già rialzata una volta insomma diciamo che mi aspetto e ci aspettiamo una reazione poi in realtà una reazione già c'era stata sul campo nel secondo tempo però dobbiamo avere quel tipo di atteggiamento nei confronti della giornata sapendo che è una partita completamente diversa rispetto a quella di lucca che avrà insidie e concederà possibilità diverse perché comunque il campo diverso che comunque l'avversario ha caratteristiche diverse però comunque quella quello stato d'animo lì è quello che ci deve animare e che ci ha animato onestamente anche durante la settimana che poi dobbiamo andare a ritrovare in campo chi chi manca allora manca ovviamente ancora lievi manca ancora mentagli lo duca e si è fermato anche rosso non so se ho letto bene quello che ho visto chiedo il suo conforto nei pochi minuti con il cesena e un pochino di più a lucca la coesistenza fra pazza e tanasa in campo a me pare abbia migliorato un po la squadra in condizioni e situazioni diverse però le volevo chiedere è una coesistenza immaginabile nell'idea di impianto di gioco che a lei oppure bisogna cambiare qualche cosa di radicale per vederli insieme secondo me in quelle due situazioni il miglioramento della squadra è dipeso più dall'assetto tattico che della coesistenza di loro due assieme nel senso che siamo passati in entrambi i casi a tre quattro uno due e con la coppia tutti e due sono giocatori adatti a giocare in coppia non è da escludere il fatto che loro possano giocare comunque assieme anche nei quattro più tre di base perché comunque unità nasa in settimana lo stiamo utilizzando spesso anche da mezzala perché comunque è un giocatore che l'ha fatta per tanti anni e che ha comunque sia anche per con caratteristiche leggermente diverse rispetto a quelle di del calo di rossetti o di tonnelli ha comunque la possibilità di interpretare il ruolo in maniera più dinamica o la stessa cosa sicuramente per pasa comunque pasa ha fatto molto la mezzala in carriera insomma ecco quindi è chiaro che sarebbero centri lampisti completamente diversi rispetto alle mezzali che utilizziamo noi di solito e quindi sono cose che possono avvenire in certe fasi delle partite o in certe partite particolari però ecco non escludo il fatto che possa giocare insieme ecco la luce del 3 4 1 2 hai schierato e che ha dato buoni risultati pensi che di confermarlo tenuto conto anche dell'impatto che ha avuto che abbianelli magari potrebbe ritornare dal primo minuto ma abbianelli può tornare al primo minuto anche senza passare al 34 12 penso che noi abbiamo una struttura molto chiara che portiamo avanti dall'inizio e che è quella del 4 più 3 di base poi con un utilizzo abbiamo già detto degli attaccanti schierati in maniera diversa secondo delle caratteristiche il 34 è una soluzione che in questo momento preferiamo mantenere a partita in corso perché comunque è un sistema che coinvolge in maniera non del tutto equilibrata la nostra rosa e quindi noi in questo momento qua non possiamo secondo me non ha senso che passiamo a un tre quattro di base perché coinvolgiamo meno giocatori nel progetto però è una cosa che durante la partita sappiamo fare l'abbiamo fatta e può essere che la partita richieda e bisogna saperlo fare però non è sempre così a collentella sia rimasti 4 3 3 per tutta la partita pur essendo anche avanti bisogna avere questa elasticità sicuramente per le azioni di partite che non vuol dire perdere la propria identità di base soprattutto nella preparazione della gara e nella settimana comunque in questo momento qua il 4 più 3 non tocchiamo parlo di difesa centrocampo poi ripeto durante la gara siamo in grado di passare a 3 e secondo me è una cosa è una qualità non è un valore aggiunto che abbiamo al limite affinare migliorare invece davanti il trio gabbianelli vano e santini possono partire dall'inizio perché hai provato un po le varie combinazioni presto non è mai non è non ha mai non è mai partita per un motivo per un altro però avanti possiamo fare un po tutto nel senso che abbiamo anche sto utilizzando dico la verità di settimana anche i angos sulla prima linea perché comunque è un giocatore che ha tantissimo uno contro uno e tantissima potenza anche se magari naturalmente più una mezzala offensiva oltre quartista però si sta adattando molto sulla linea di tre anche lui e quindi abbiamo tantissime soluzioni davanti diciamo che poi tutte queste soluzioni passano tendenzialmente dal fatto che si decide di utilizzare solo uno tra vano e santini oppure tutti e due perché poi la differenza principale è questa però tutti gli altri sono giocatori che sicuramente possono giocare a ridosso del riferimento e non certo come riferimento e quindi a questo punto qua la questione è utilizzare tutti e due oppure soltanto uno dei due per poi eventualmente utilizzare il secondo durante la gara in coppia andando modulo oppure tenendo gli alternativi l'uno con l'altro questa cosa qui anche mancando mencagli da parecchio tempo è una cosa comunque che richiede sempre riflessione perché comunque poi ci si può trovare come è stato a luca in un finale di partita senza possibilità di avere cambi freschi sui giocatori più diciamo offensivi o comunque più strutturati che si possono avere però secondo me quello li dipende un po dal tipo di partita che io prevedo perché secondo me possiamo giocare tranquillamente con tutti e due insieme come possiamo giocare con uno di due abbiamo vinto a entella senza vano che è entrato nel secondo tempo abbiamo vinto in casa con l'olbia con vano insieme a santini cioè penso che da questo punto di vista dobbiamo avere questa elasticità se prevede una partita più da spazi aperti anche se vanno comunque a una sua profondità di fondo non è un giocatore che non si propone in profondità però può essere che posso optare più per magari uno solo dei due e avere magari un esterno più di gamba se invece prevedo comunque una partita dove si deve andare più a giocare dentro tante volte santini partendo in quella posizione riesce ad essere anche più devastante magari scollarsi di dosso quello che può essere il lavoro del primo difensore centrale come è successo con cesena che magari lo lo va lo va a soffocare però questo un po io cerco di capire un po la gara e anche un po come stanno perché comunque poi si si passa tanto anche da lì di solito chi gioca bene chi fa gol si cerca sempre di cercare di proporlo l'ultima partita è gol abbia fatto solo sul rigore quindi rimbalzo della scelta è la partita di domani a partire di domani è una partita di non faccia non faccia decifrare nel senso che è una partita che secondo me ci può certamente sapere come sarà dal punto di vista tattico perché perché noi possiamo dire come come ci aspettiamo che possa essere in virtù del fatto che l'avversario comunque viene da una partita vinta in maniera anche convincente e che ha trovato sicuramente energie entusiasmo ha ritrovato entusiasmo però bisogna capire quanto noi riusciremo a gestire la palla e secondo me dipende da questo il tipo di partita più noi gestiremo palla e più l'avversario al di là del fatto che resta un avversario aggressivo che prova a non farti giocare che cerca di alzarsi e se la palla gestici tu e chiaramente poi deve adeguarsi altrimenti diventa una partita stile cesena o stile lucca primo tempo se noi non abbiamo quella padronanza e quella capacità che col cesena non abbiamo avuto per secondo me nostro imbarazzo e barra caratteristiche del genere con la lucchese non abbiamo avuto per una serie di motivi dove le condizioni ambientali insomma un po' hanno inciso questa nostra non capacità di gestire palla come in realtà sappiamo fare come in realtà abbiamo fatto primo tempo san donato come abbiamo fatto praticamente per tutta la partita con l'olbia come abbiamo fatto nei secondi tempi con cesena contro contro la lucchese ecco quindi questa qua è una partita abbastanza spartiacque non tanto sulla classifica ma sulla no sulla nostro modo di far calcio e io penso che noi questa partita qua dobbiamo interpretare la squadra che sa dettare i tempi della partita nonostante che ci sia una squadra contro ripeto che ha questa freschezza qua che ha davanti giocatori che sanno pungere anche abbastanza offensiva come schieramento perché comunque sono quattro di fatto tre attaccanti puri più un giocatore molto offensivo che vengono a giocare sulla prima linea e non credo che cambieranno tanto dopo aver vinto la prima partita in quella maniera lì e quindi penso che si presenteranno con con le quattro punte quindi lì poi sarà noi dopo se invece faranno una scelta più difensivista o più speculativa ci adegueremo ma è più dobbiamo essere elastici in questo momento quando noi da questo punto di vista dico che secondo me non cambieranno più di tanto meno dell'approccio la partita hanno fatto molto bene e avevano già fatto bene contro la leggiana secondo me un risultato bugiardo il 2 a 0 con la leggiana visto che l'abbiamo visto per pochissimi minuti che tipo di giocatore intanto quant'è quante grave l'indisponibilità di rosso però che tipo di contributo nelle caratteristiche della rosa può dare questo giocatore e volevo chiedere hanno tempi diversi di inserimento nella rosa però a che punto sono nel guadagnare la forma perfetta vano e gigli e la terza è una volta allora rosso è un giocatore diverso a tutti gli altri esterni che abbiamo probabilmente il più esterno di tutti da tridente anche con piscitella anche se piscitella caratteristiche un po diverse lo so forse anche un po più di porta e non abbiamo mai potuto vederlo di fatto pochissimo e in settimana ogni volta che ha provato a trovare la condizione poi ha avuto questi pastigli muscolari anche questo è molto piccolo una cosa da una settimana però è chiaro che se capita prima di settimane dove ci sono tre partite in programma lo porta a essere fuori parecchio però è un giocatore che ha sia la profondità e sia la capacità di dire tra le linee è un giocatore che ama partire aperto e secondo me nel 4-3-3 classico è un giocatore che può essere molto utile oltre a sapersi adattare anche a giocare un po più sotto punta quindi siamo curiosi tutti e vogliosi di poterlo vedere però in questo momento qua purtroppo è fuori la seconda era Vano e Gigli beh ma Vano in questo momento qua è molto cioè l'ultima settimana soprattutto noi abbiamo i dati anche di gps che utilizziamo tutti i giorni e il volume del lavoro di Vano è cresciuto tantissimo negli ultimi 7-8 giorni è normale che quando è arrivato era un po più dietro è normale che l'abbiamo anche in parte gestito all'inizio perché comunque a parte la prima partita dove era stato costretto a partire perché avevamo fuori sia Santini sia Melcagli e poi comunque anche nella seconda l'abbiamo utilizzato diciamo e anche nella terza in ingresso ma era giusto rispetto a come stava poi è cresciuto è cresciuto si è visto con l'olbia poi la partita di domenica non è stata fortunata per nessuno degli attaccati ma non abbiamo iniziato per una questione di condizione quella di sabato scorso e quindi secondo me sta abbastanza bene a subire una percentuale rispetto a quello che può essere sullo stato di forma assoluto non la so dire però molto meglio rispetto a due settimane qua e Gigli bisogna avere un minimo di pazienza perché comunque il giocatore che io ho buttato dentro la mischia un po' per necessità anzi solo per necessità a Lucca però obiettivamente veniva da comunque un'inattività anche se si era allenato con un preparatore personale aveva fatto anche qualcosina in situazione però insomma un po' diverso e quindi bisogna avere un minimo di pazienza lui stesso lo sa e ce l'ha sta lavorando seriamente non è un giocatore in questo momento qua distante da una condizione accettabile assolutamente si è visto anche Lucca che ha tenuto bene dal punto di vista della tenuta la partita però deve trovare un po' di intensità e questo fa parte del percorso. L'ultima domanda è non so se mi sembra sabato scorso quello prima lei ha detto in questo campionato è fondamentale saper leggere bene le partite durante la settimana e prepararle adeguatamente o come colto la sensazione che a Lucca non sia stato soddisfatto di come è stata letta la partita la capacità di capirla in fretta se si è sbagliato qualcosa e adeguarsi in fretta è uno scalino che si attende dalla squadra breve? Sì sono d'accordo Luca non sia stati capaci né noi da fuori né loro da dentro perché secondo le cose secondo me che si possono portare anche dall'esterno e ci sono delle cose che si possono anche leggere a campo non c'era da far chissà che probabilmente c'era in qualche situazione da riabbassarsi un po' di più e di non andare magari a cercare una pressione che non ci stava riuscendo nel primo tempo questa cosa qui l'hai anche pagata tantissimo l'ho detto anche dopo la partita perché sono convinto che nonostante tutto quel primo tempo lì giocato così con tutte quelle difficoltà lì se finiva a 0 1 a 0 e non 2 a 0 come di fatto era finito ti dava tante altre possibilità e purtroppo nel calcio bisogna cercare di non sbagliare perché poi ci sono anche le abilità degli altri e soprattutto sul secondo gol l'abilità degli altri è venuta fuori parecchio e quindi poi devi accettare diciamo questa cosa e cercare che capiti il meno possibile però al di là partita di Luca questa cosa qui secondo me si è vista quest'anno in tutte le partite si è vista in tutte le partite poi si è vista in positivo con l'Odia si è vista in negativo secondo me nel primo tempo con il Cesena però poi soprattutto all'inizio dell'anno è difficile avere grande capacità di adattamento in corsa alle volte devi sperare che alcune cose che sbagli a leggere non le paghi tutte perché se le paghi tutte diventa un po più problematico quindi da questo punto di vista io spero che però ne abbiamo parlato molto anche durante questa settimana impariamo a diventare cioè ad assorbire meglio anche le situazioni che non abbiamo previsto completamente perché è per fortuna è uno sport situazionale quindi dobbiamo anche godere di questa cosa no quindi non si può prevedere tutto e quindi è bello anche che ci siano delle sorprese come tu cerchi di fare agli altri e devi essere un po più bravo a capire queste cose durante la partita le capacità di lettura come oppure l'approccio sono cose che arrivano col tempo cambiando il meno possibile cioè dando fiducia non dico sempre gli stessi giocatori però con un impianto di squadra che sia il meno possibile rivoluzionata tutte le partite o questo non conta la capacità di adattamento e l'approccio sono cose diverse nel senso che secondo me noi non abbiamo mai sbagliato approccio cioè secondo me anche col Cesena non abbiamo sbagliato approccio abbiamo sbagliato interpretazione è diverso anche quello non dipende dalla poccia non è una cosa mentale secondo me ma diventa una cosa cistica tattica nella ricerca di cose adatte alla partita o meno adatte alla partita e secondo me mentre sull'approccio dobbiamo semplicemente continuare a cercare di tenerlo alto sapendo che comunque essendo uno sporo di confronto il tuo approccio va confrontato con l'approccio degli altri anche dal punto di vista motivazionale e psicologico bisogna riuscire a tenere alta la tensione anche quando si viene da due vittorie di fila anche se nove volte su dieci quando viene da due vittorie di fila e vai a trovare una squadra come la lucchese che veniva da purtroppo quel tipo di partita che aveva fatto a Florenzola sai che loro dal punto di vista mentale la partita non la sbagliano ma probabilmente vanno anche un po' oltre e tu devi riuscire a reggere da questo punto di vista qua quindi secondo me questione approccio non l'abbiamo mai sbagliato questa è una tattica come ho detto prima e di adattamento e di lettura è una cosa che può migliorare col passare del tempo cioè deve migliorare col passare del tempo migliora col passare del tempo il fatto di avere gli stessi interpreti o interpreti diversi è una cosa che chiaramente è normale che se c'è più spesso le stesse persone si adattano più velocemente rispetto ad altre ecco però noi da questo punto di vista abbiamo scelto un approccio abbastanza classico alla stagione non abbiamo più di tanto mai stravolto l'undici abbiamo fatto dei cambi spesso per necessità è quello poi chiaro che non dipende tanto da te abbiamo cambiato 30 persone centrali diversi tutti per necessità al corso delle prime cinque partite e quindi insomma stiamo cercando di trovare il più velocemente possibile quello che può essere quel tipo di identità lì sapendo che è comunque abbiamo anche la rosa che non è che poi tu puoi partire e a priori escludere qualcuno prima quella che abbia la possibilità di dimostrare qualcosa quindi sono d'accordo sul fatto che meno si cambia e più velocemente si capiscono determinate cose siamo alla sesta giornata quindi insomma dobbiamo anche avere chiaro quello che può essere la proporzione di quello che hai fatto e che è successo rispetto alla proporzione che ha la stagione in sé quindi non siamo non possiamo di certo dire di essere andati lunghi con questo tipo di ragionamento insomma ecco